Ci mancava solo l'emergenza coronavirus a rallentare ulteriormente la macchina amministrativa pubblica percepita dalla gente tra quelle che non hanno mai brillato di certo per la sua accelerità. La possibilità del telelavoro offerta anche ai dipendenti comunali nel periodo dell'emergenza coronavirus avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione. Telelavoro che è continuo anche in questo periodo. A pensarla così è l'assessore al turismo del comune di Sciacca, Sino Caracappa, che probabilmente ha perso la pazienza e oggi ha dichiarato pubblicamente attraverso un comunicato stampa che lo smart working rallenta l'attività della pubblica amministrazione. Un diritto, dice Caracappa, non deve diventare un alibi. Occorre lavorare per la città in questa difficile fase di ripartenza. L'assessore al turismo chiede un maggiore senso di responsabilità e anche una verifica delle attività svolte. Le disposizioni in fatto di lavoro agile nella pubblica amministrazione inserite nelle misure di prevenzione anti-covid, fa sapere Caracappa, hanno comportato al comune di Sciacca un evidente rallentamento delle operazioni in tutti gli uffici. Non volendo togliere alcun diritto ai lavoratori, continua l'assessore, chiedo che venga rispettato il diritto dell'utenza della città ad avere risposte immediate. L'assessore Sino Caracappa ha chiesto pertanto ai dirigenti di tutti i settori una ricognizione dei singoli dipendenti smart working, relazionando la Segreteria Generale sui carichi di lavoro e sugli obiettivi raggiunti. Insomma, secondo Sino Caracappa, per qualcuno lo smart working sarebbe diventato una scusa. E' intollerabile e conclude che un legittimo diritto possa diventare l'occasione per penalizzare i cittadini e le loro altrettante legittime richieste. Uno scontro a fulmicotone, dunque, quello che viene fuori tra un componente dell'amministrazione, che non è nemmeno quello al personale, ricordiamo che questa delega è gestita da Fabio Leonte, e probabilmente la Segreteria Generale o comunque i dirigenti. Forse è giunto il momento di superare la fase dello smart working anche al comune, anche se siamo nel comune, in cui anche la ripresa dei lavori consigliari in presenza ha avuto recentemente un suo faticosissimo via libera.